Sì, il progetto come l'altro anno si svolge un po' a mare e un po' a terra. Il martedì i ragazzi prendono il mare per imparare a governare la barca a vela e il mercoledì con il pullman, con i mezzi pubblici, partono e vanno a Orto Storto, a Montalto e poi tornano con il treno, accompagnati dai nostri accompagnatori. E là alcuni di loro fanno cucina a turno, cucina e sala, quindi apparecchiano, sparecchiano e imparano tutto ciò che è importante per gestire un piccolo ristorante. Altri invece fanno lavori con gli animali oppure sul campo, orticoltura, giardinaggio, semenzai, trapianti di piantine, potatura di alberi. Ecco, imparano tutto ciò che è importante per gestire la campagna. Stiamo andando avanti per tappe. A giugno pensiamo di far preparare il pranzo di chiusura a questi ragazzi e di farlo anche servire a tavola. Successivamente pensiamo di impiantare un piccolo orto gestito interamente da loro, dall'inizio fino alla fine. Cioè piantare, far crescere le piante con concimazioni e annaffiature e poi la raccolta dei prodotti. Un importante progetto di inclusione sociale, finanziato come sempre dalla Fondazione Carici? Sì, questo è il secondo anno per questo tipo di progetto. È un progetto al quale la Fondazione tiene in maniera particolare in quanto c'è quella sinergia che noi andiamo chiedendo da sempre e che devo dire che gli amici della Tarsella Romana hanno sempre operato. Questa volta c'è una sinergia importante tra terra e mare che serve sicuramente a questi ragazzi, oltre che a fare sport, perché poi la vela è uno sport, a impegnarsi su altre cose comunque importanti. Tanto conoscere la terra, conoscere i frutti della terra e poi fare in modo che loro stessi diventino protagoniste di questo lavoro. Ritengo che sia molto educativo e molto formativo. Quindi sicuramente bisogna andare avanti con questi progetti e stendendoli magari con dei criteri particolari sempre di più anche ad altre associazioni perché sono ripeto progetti veramente molto importanti.